Ti ha convinto quello che ha detto il generale Figliuolo? Siamo sulla buona strada o no? Io credo che le parole di Figliuolo debbano rassicurare il Paese. Sicuramente c'è la sensazione che qualcosa si stia muovendo. Non si sta muovendo solo a livello di governo, ma probabilmente anche a livello delle case farmaceutiche. Si è saputo che i vaccini arriveranno in quantità maggiori e questo sarà probabilmente già di per sé una garanzia del fatto che le vaccinazioni potranno procedere in modo più rapido, visto che all'inizio uno dei grossi problemi era proprio il ritardo negli invii, la mancanza delle dosi necessarie. Quindi speriamo, ed è auspicabile che sia così, che il connubio tra un'organizzazione che diventa più spedita e anche più organizzata e l'aumento delle dosi permettano effettivamente una velocizzazione. Figliuolo mi sembra che abbia esattamente prospettato questo tipo di situazione. Peraltro era curioso vedere, mentre parlavi di vaccinazione, il titolo del domani, l'ultima speranza perché l'ultima speranza è proprio quella di potersi vaccinare tutti, al di là di quello che farà Letta per il Partito Democratico.